Un dinosauro in corso garibaldi. In epoca di covid succede anche questo nella città dei Matti e non poteva essere altrimenti. La goliardata messa in scena o meglio in strada nella tarda serata di sabato ha ben presto fatto il giro del web e dei social. La prima immagine sorprendente ritrae un individuo con un enorme costume da dinosauro che quasi timidamente sbuca da via aquilante per codersi poi in perfetta per quanto triste solitudine quello che ancora oggi nonostante tutto viene considerato il salotto del centro storico Il Corso. Guardandosi intorno senza manifestare alcun disagio il dinosauro notturno ha compiuto qualche vasca con il rumore dei suoi passi rilanciati dal silenzio assoluto della notte prima di infilarsi di nuovo da dove era arrivato. Un'apparizione che ha portato un sorriso, una ventata di goliardia in tutta la rete in un periodo appesantito dal forzato isolamento. Un'apparizione ampiamente condivisa e apprezzata da tutti, un modo intelligente per vivere con un briciolo di spensieratezza, un momento difficile e incerto. Chissà che quel dinosauro non abbia avuto anche un'apposita autocertificazione dato che si trovava più di 200 metri dalla gola del Bottaccione, ovvero il sito di rilevanza scientifica mondiale culla della teoria della scomparsa dei dinosauri, secondo la celebre teoria degli Alvarez, Luis, premio Nobel del 1968 per la fisica, e il figlio Walter, scienziati statunitensi di fama mondiale, che poggiarono la propria tesi sull'alta concentrazione di iridio di derivazione meteoritica rinvenuta proprio tra le rocce della gola eugubina.